Musica Nella tua più intima vita, nelle foto dell'artista, il particolare diventa la visione cosmica di un mondo interino. La tecnica è originale, accurata e stagliente. Sfrutta la luce, che è alla base della ricerca fotografica. L'obiettivo accoglie, analizza e restituisce. Credo di poter sintetizzare come tu hai potuto esprimere con queste opere. Adiana, tu che conosci Marco Borani da tanto tempo? Allora, io ero arrivato a vederlo come fotografico dei VIP, delle feste mondane, non pensavo che invece si nascondeva un grande artista capace di creare delle foto così... Ah, così belle, così profonde. Marco, veramente mi hai sentito complessente. Queste ci sono delle opere molto, molto, molto profonde, molto importante, anche molto elaborate e quasi quasi hai raggiunto il borderline oltre il quale... Il quadro più artistico e più cromatico che potrebbe far parte, anche realizzato a colori, è quello lì basso, quel vero grano, il miradito, quella macro fotografia che tu hai fatto, che potrebbe... Ma il concetto parte dal cervello, poi lo realizza la parte tecnica, il computer, ma lui in effetti se avesse un pennello o un altro strumento realizzerebbe lo stesso, non al computer. Il quadro più artistico è un'altra parte tecnica, il computer, ma lui in effetti se avesse un pennello o un altro strumento realizzerebbe lo stesso, non al computer, ma lui in effetti se avesse un pennello o un altro strumento realizzerebbe lo stesso, non al computer. Il quadro più artistico, non al computer, ma lui in effetti se avesse un pennello o un altro strumento realizzerebbe lo stesso, non al computer. Il quadro più artistico, non al computer, ma lui in effetti se avesse un pennello o un altro strumento realizzerebbe lo stesso, non al computer.